Sono una studentessa di scienza della comunicazione e sono semessa da Cervelloni. Qua ci sono quelli di ingegneria, che fanno un sacco di calcoli, 1.500 radice, più o meno, uguale. Sì, vabbè, insomma, avete capito. E qua invece ci sono quelli di scienze motorie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ma io, invece, mangio tutto il giorno merendine e sono felice così. Ma ricordatevi che questa società è fatta di comunicazione e i vostri più felici non ci toccano. Grazie.